Imperiali, manto della tempesta. Non mi importa chi comanda, io voglio solo guadagnare. Oh 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 oh! Me cuore ruba la mia notte, cuore! Mardina è finua! Eeeh... raudar... ma chi è che fa rumore a quest'ora? Enzo, ma che ne dimentico ne ci fai qui? Cosa? Che cosa? Come è entrato un grassone con la barba bianca vestito di rosso e bianco? Eh, eh, cosa? Stavo tentando di rubarmi qualcosa. E tu? Tu gli hai dato un menculo ma l'ho tenculo in faccia. Ah, Enzo, quello, quello, quello che, per così dire, è ucciso. Era Babbo Natale, quindi non so se ti hai reso conto di cosa hai fatto. Eh, niente, dovremmo salvare il Natale, perché tu hai deciso Babbo Natale, quindi dobbiamo portare i regali. Forza, salviamo il Natale, Enzo. Ma mi cassa, pizzo! Sì, dopo quello ci esce. Ok, Enzo, adesso entriamo in questa casa e depositiamo il regalo, però facci inizio, non fa rumore, ok? Ah, ah, non la vuole io! Potrebbero essere ancora sei. Ok, eccoci. Dove ci saranno questi l'albero? Io non lo vedo. Cheso! Mendito. Faccio resto. Dobbiamo subito. Dove è forse sto qua dentro? Aspetta, non mi ricordo dove. Eccolo qua. Siccome le voleva fare il Fabbo, io voglio dire che ho un po' di cipolle. Ho remonto l'argento. Via 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 via. Ok, passiamo a quest'altra casa. Ma che se fassi? Beh, se qualcuno passa, eh, che sto scazzando. Via 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 via, lì, 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 lì. Sarebbe un po' la cosa bosca, però, così tu andrà. Mi ha nascosto. Mi raccomando, tu fai da peggio, intanto io... Deposito la roba, ok? Bene. Allora, mentre quello... Mi vedo, io devo andare a macchina. Mi regalati. Ma ho sentito che volevano... Ecco. Delle vestita a recufilo, quindi... Oh, caccia, 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 caccia! Cosa sono quel tiro? No, Ezzo, Ezzo. Ezzo, vedi qui. Ezzo. Ezzo, vedi qui. Natale. E' la colpa tua, perché tu sei stato a uccidere il Pagone Natale. Comunque, non fai niente alla gente, è di nuovo felice. Io direi di torno a cena a casa, a mangiare il pranzo, che sarà un po' pezzi di pane. Che hai da guardare? Voila. Guarda che non ho paura di te, anche se sono più giovane. Eh, ma che cosa... Per me? Vieni a trovarmi da Veneto, ora al mercato. È per te. Ma, chi ha fatto questi regali? Vabbè, apriamoli. Oh mio Dio, non ci posso credere. Mi hanno regalato mille pezzi di arrosso di fagiano. Proprio quello che volevo. Si va alla grande. E tu Enzo? Che cosa hai... Uffo. Questo sì che è un regalo bello. Sono felice per te. Valla a prendere, no? Va bene. Beh, ce lo devo dire io. Un gioiare un'esitata! Benissimo. Beh ragazzi. Spero che vi sia piaciuto il video. È stato abbastanza... Così, così, così. Insomma, io e Enzo volevamo augurarvi un buon Natale e un buon proseguimento delle festività. Quindi niente. Buon Natale ragazzi.